GIGA Mi pare che vado a rimanare un altro for giga G G G è qua Allora far è la farà Andere che è quando andi inko in me signo Sei tutto Beh, stagghi Oh, stagghi Oh, God Noi, come qui Non c'è Oh? iscriviti al campione Kano shippo escriviti al campione hai caas una do word a accura asuna che vieni a schiena si vieni a schiena che vieni a schiena che vieni a schiena il suo corpo del mio 0 18 un bel tra mesi che l'aporto di i abbiamo in un Niente parte che lo scopo? Niente parte che lo scopo? Se non riesci a fare un tagliamento... Niente parte che lo scopo? Niente parte che lo scopo? È una piccola di raggiare. Si è rotto, non so chiamare. Non ti preoccupi? Non si sono scopo? Non mi piace per raggiare. Non mi piace per raggiare? Non mi piace, non mi piace. i fastidio se non vi Angosti si che vanno batti ma vai? non ci faccio solo sono che non si non ci faccio non ci faccio fa no 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 ne bro tj in game ok ok un caso Sesta in sostanza Si ило La scuola A щоб è finito 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 e non basta c'è questo c'è questo il cibo è la mia vittor 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 oh slug oh slug ok ok gundi and brah no 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 dai bro bro no 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 gun trappi gun trappi nate asip nate asip bro gun trappi gun trappi bro gun gun ammo 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 oyu tutupetidupo uiputupo didn't this what is problematic 2 6 available Ma tra, perché le diamo a lei non c'è un po' da loro, non c'è. Salve. Guarda, finì il ciurro o no?